Prende la conclusione, anche questa la rifiuta, decide di andare dentro Thomas Tress! Che cosa ha fatto? Tutta la grinta di Thomas Tress l'abbiamo visto da quel primo piano ma soprattutto dalla sua schiacciata di gioca l'uno contro l'uno in faccia a Cervi. Dall'altra parte il fallo in attacco fiscato a Troy Bell. Mamma mia ragazzi, la giocata forse più bella di questa post-season. Con Cervi che cerca di stoppare Thomas Tress!